L'Abruzzo fuori dalle grandi opere, oggi conferenza stampa qui nel Consiglio regionale per denunciare proprio questo. Perché l'Abruzzo secondo voi è fuori dalle grandi opere? Perché l'Abruzzo con il centro-sinistra che governa l'Abruzzo non conta nulla sui tavoli romani. Del Rio ha determinato le 30 opere principali per l'Italia, superando la logica della legge obiettivo. In queste 30 opere non c'è nessuna opera abruzzese. Le programmazioni sono identiche, cioè il governatore D'Alfonso ha riprodotto la stessa programmazione del governatore Chiodi, in parte partita. Pensiamo al raddoppio del binario della ferrovia di Porta Nuova, o pensiamo alla direttrice Amatrice Navelli, o pensiamo alla pedemontana marchigiana. Sono arrivati loro e non sono riusciti a farsi attenzionare per nulla. Quindi ora il centro-destra cosa dice al governatore D'Alfonso? Il centro-destra non dice nulla al governatore D'Alfonso, porterà l'agenda delle grandi infrastrutture in consiglio regionale. Ci attendiamo una risposta puntuale da parte del governatore D'Alfonso, che tra l'altro ha imperniato tutta la sua campagna elettorale sulle grandi infrastrutture. Sono al governo regionale, sono al governo nazionale e ci daranno un cronogramma della risoluzione dei problemi. Questo potrebbe portare anche, come diceva lei, a un danno economico per l'Abruzzo sotto il profilo della ripresa economica, ma anche sotto l'aspetto del dato occupazionale. Senza infrastrutture non arrivano imprese, senza imprese non si crea lavoro e non si aggancia alla ripresa. Questa è la cosa più importante di cui ha bisogno l'Abruzzo. Chiaramente le opere devono essere fatte in massima trasparenza e senza perdere tempo.